Bella raga, ottavi di finale di Coppa Italia, battiamo 6 a 2 il Benevento, sbrighiamo subito la pratica mettendo subito la partita in discesa con due gol nei primi sette minuti, ottimo così perché con l'Inter non si sa mai quindi meglio tenere la guardia alta, vedi Pordenone l'anno scorso, quindi non bisogna mai dare niente per scontato però ovviamente poi è stato un allenamento, dai ci siamo divertiti, abbiamo visto qualcosina di gustoso tipo la conferma di Lautaro Martinez che conferma di avere i colpi da gran giocatore, il destino crudele nei confronti di Candreva Porello che mi fa la doppietta ma i tifosi non ci sono, destino veramente infame per Candreva segna anche da Albert e quindi veramente ragazzi oggi è stata una pacchia, una pacchia diciamo ora ci andiamo a giocare i quarti di finale con la Lazio, bene così, ovviamente noi non si vince dal 2011 quindi non si butta via niente, se c'è la possibilità di alzare anche un trofeo come la Coppa Italia ben venga perché tutto fa mentalità e tutto fa brodo, ricordo ancora la goduria che avevo provato quando ai tempi di Mancini avevamo vinto la prima Coppa Italia dopo una vita non vincevamo più niente quindi se vincere la Coppa Italia io sono più che contento però ora ce lo scoglio di quelli importanti perché la Lazio che avrà anche il dente avvelenato sarà durissima da superare per il resto ragazzi si parla di mercato, si parla di tante cose adesso c'è la questione Icardi che io ho un po' di memoria quindi a parte il fatto che sta pantomima scassa un po' le palle ma comunque lascia il tempo che trova mi sono soffermato su una cosa che mi ha incuriosito che quando abbiamo rinnovato Icardi un anno e mezzo fa tutti i giornali titolavano, anche quelli esperti di finanza titolavano Icardi 5 e mezzo più bonus al che bel ingazzino per carità adesso tutti dicono 4 e mezzo per carità può essere giusto quella di prima, può essere giusto quella di adesso sicuramente è un po' strana sempre sta cazzata che secondo me i giornalisti pompa le cifre quando ci devono far passare per quelli che calano sempre le braghe e ora per tenere più sulla corda, per avere più i tifosi dalla parte del rinnovo di Icardi abbassano la cifra perché delle due l'una era una gran cazzata comunque sia a prescindere da questo ovvio che dire 4 e mezzo fa più specie che dire 5 e mezzo a prescindere da questo il contratto secondo me va assolutamente rinnovato purtroppo non amo questi adeguamenti continui perché nel mondo del lavoro se te fai bene il tuo lavoro non è che vai dal titolare ogni anno e gli dici mi alzi l'ingaggio mi alzi l'ingaggio comunque il calcio è un mondo a parte e bisogna accettarlo che non è più come negli anni 80, anni 90 si parametra su coglioni che hanno dato tipo 17 milioni a Ken che è una cifra da ritardati mentali e quindi giustamente ognuno fa i parametri che vuole e fa quello che vuole comunque penso che alzando la cifra sugli 8, sui 9 alla fine si vada a rinnovare anche perché secondo me Icardi che ha 5 figli a seguito sono ben radicati a Milano non penso vogliono andare via se vogliono andare via comunque sia devo portare i 110 milioni della clausola pochi cazzi non è che vanno via che lo decidono loro almeno questo funziona così ottimo l'affare Godin sono veramente contento se verrà confermato perché difensore coi controcazzi che porta tantissima mentalità all'interno della squadra e a noi questo ci serve come il pane un po' di bella garracciarrua ovviamente i giornalisti avevano il culo in fiamme quindi circa 40 minuti dopo che si era capito che l'Inter aveva le mani su Godin hanno cominciato a dire Skriniar verrà ceduto Skriniar verrà ceduto capisco che la vostra speranza è che Skriniar verrà ceduto vedremo ragazzi vedremo vedremo se sarà così perché se non sarà così che ci teniamo Skriniar devrà il Godin abbiamo una difesa della Madonna che faccio fatica in Europa a trovare tre centrali di quel livello tutti in una squadra non credo ce li abbia nessuno e questo è l'inizio è un segnale se teniamo tutti quanti di grande Inter di ritorno della grande Inter è un segnale importante poi per gennaio si fanno un po' di nomi tra centrocapisti trequartisti vari Barella Veretout De Paul che a me piacciono molto soprattutto Barella e Jordan Veretout sono acquisti buoni per gennaio per me andrebbero benissimo poi però a luglio ragazzi ci vogliono i colpi e i colpi quelli pesanti tipo Godin comunque ragazzi ora sotto col Sassuolo anche a porte chiuso ragazzi non fermiamoci non so fermiamoci che c'è una qualificazione Champions da conquistare bella raga per me c'è solo l'Inter si riparte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti